Giovanni Battista Belzoni è ampiamente noto a tutti coloro che sono interessati alla cultura faraonica. L'italiano alto due metri e di corporatura robusta lavorò come uomo forte del circo a Londra e si recò in Egitto per vendere una pompa di irrigazione al vicere Mohamed Ali nel 1816. Una volta nel paese del Nilo, si interessò alle antichità egiziane e lavorò come un cercatore per il console britannico Sir Henry Salt. Infatti, l'esploratore italiano fece importanti scoperte durante il suo soggiorno in Egitto. La tomba di Seti I, la più bella della Valle dei Re, da dove l'elaborato sarcofago fu portato a Londra, entrò anche nella tomba di Ramses I nella Valle dei Re. Entrò nella piramide di Kefren, la seconda più grande della pianura di Giza. Essendo il primo uomo in tempi moderni a farlo, entrò anche nella piramide di Micerino, scavato nel Ramesseum e riportato a Londra un enorme colosso di Ramesse II, noto come il «Giovane Memnon», sicuramente il pezzo di scultura egizia più bello e perfetto che si possa vedere in tutto il paese, nelle sue stesse parole. Raggiunse anche Abu Simbel, a circa 40 chilometri dalla seconda cataratta, dove liberò dalla sabbia ai templi eretti lì da Ramses II. Ma c'è un capitolo della vita e delle avventure di Belzoni che è forse molto meno conosciuto, anche se ha comunque un interesse quasi fittizio, soprattutto perché raccontato dall'esploratore stesso. Riguarda le sue esperienze tra le mummie. Belzoni scrisse infatti un libro, intitolato «Narrative delle operazioni e delle recenti scoperte all'interno delle piramidi, dei templi, degli scavi in Egitto e Nubia», dove, con uno stile agile e brioso, l'ex forzuto divenuto archeologo racconta, in tono avventuroso e senza lesinare su dettagli luridi e agghiaccianti, le sue esperienze all'interno delle antiche tombe egizie, dove si sarebbe imbattuto nei resti dei loro ex inquilini. Belzoni ha scoperto che il pubblico era entusiasta di queste storie, oltre che di vedere le mummie dal vivo. Ed pause 1.2, mentre era in Egitto, e anche se sembra impossibile, Belzoni, nonostante la sua enorme corpulenza, non ebbe rivali strisciando attraverso stretti corridoi per penetrare tombe antiche, e polverose. Allo stesso modo, e forse grazie al suo fisico privilegiato, non aveva paura di passare la notte con ladri e tombaroli, a volte lo invitavano anche a cena, e per questo uccidevano un paio di galline che arrostivano in un piccolo forno alimentato con i frammenti delle verdi legno delle tombe, a volte anche con dentro le ossa e le carcasse dei loro vecchi occupanti, secondo un testimone oculare. Belzoni si guadagnò la fiducia di alcuni di questi rapinatori, e li convinse a guidarlo nelle antiche tombe da cui estraevano le antichità che poi venivano vendute al mercato nero. Così, in un'aria densa e carica di polvere in sospensione, praticamente irrespirabile, Belzoni cercò tra le bende sui corpi papiri e amuleti da poter conservare. Nel suo libro, l'italiano descriveva la difficoltà di penetrare attraverso quei passaggi pieni di sabbia e macerie. In alcuni punti non c'è un buco più grande di un piede o giù di lì attraverso il quale devi strisciare come una lumaca, e ci sono rocce taglienti che tagliano come il vetro, in un'altra occasione si trovò, circondato da corpi, cumuli di mummie in tutte le direzioni, che, non essendomi ancora abituato a tali visioni, mi colpirono per il loro orrore. O torce per la mancanza d'aria, i diversi oggetti che mi circondavano e che sembravano dialogare tra loro, e gli arabi con le candele o torce in mano, nudi e coperti di polvere, sembravano anch'essi mummie viventi, formando una scena che non può essere descritta in alcun modo, riferiva. In questo stesso senso, Belzoni racconta ciò che gli accadde una volta mentre strisciava in uno stretto passaggio lungo sei metri in cui difficilmente riusciva a passare. Era affollato di mummie e non potevo passare senza che la mia faccia entrasse in contatto con la loro, qualche egiziano decomposto, ma il passaggio scendeva verso il basso in modo che il mio stesso corpo mi aiutasse ad avanzare. Eppure non potevo fare a meno di essere coperto di ossa, gambe, braccia e teste che rotolavano giù dall'alto. Così avanzai subito, caverna in caverna, tutte piene di mummie ammucchiate in varie forme, alcune ritte, altre sdraiate, altre capovolte. Davvero, una scena degna di un film di Indiana Jones. Come continua a raccontare Belzoni nel suo libro, per far fronte a queste spiacevoli situazioni aveva un alleato fondamentale, la sua mancanza di olfatto. Fortunatamente per lui, non poteva sentire l'odore della polvere dei secoli che inondava l'interno delle tombe, sebbene potesse, gustare la, polvere, delle mummie, che era piuttosto sgradevole da ingoiare. Anche l'enorme peso dell'ex uomo forte della fiera non era di grande aiuto, a seconda della situazione. Ad esempio, ancora una volta, esausto per la fatica di infilarsi in una tomba, si è seduto con tutto il suo peso su una bara, e, l'ho schiacciata come una cappelliera. Sprofondai tra le mummie rotte in mezzo a uno scricchiolio di ossa, bende e scatole di legno, il tutto sollevava una quantità di polvere così grande da costringermi a rimanere immobile per un quarto d'ora in attesa che tornasse a depositarsi. Ma non erano tutte mummie umane. Belzoni ha avuto anche alcuni, incontri, con mummie animali. Infatti, scoprì un, deposito, pieno di questi tipi di mummie durante gli scavi nella Valle dei Re nel 1818. In realtà, non era del tutto sicuro di quale fosse esattamente la loro funzione, anche se le descrisse a lungo. Devo non omettere che tra tutte queste tombe ne abbiamo viste alcune contenenti mummie di animali frammischiate a corpi umani. Vi erano buoi, mucche, pecore, scimmie, volpi, pipistrelli, coccodrilli, pesci e uccelli. Al loro interno sono talvolta piccoli idoli. Una delle tombe era pieno di gatti, la testa coperta da una maschera raffigurante un gatto e anch'essa di lino. Del bue, del vitello e della pecora si era conservata solo la testa. La scimmia conserva tutta la sua forma ed è seduta. La volpe è come strizzata dalle bende. Il coccodrillo ha una sua forma. Gli uccelli sono insieme. Le loro bende così strette che hanno perso la forma. Tranne l'ibis, che appare come un pollo pronto per essere cucinato. Dopo Belzoni, altri europei avrebbero cacciato i tesori nascosti dell'antico e misterioso Egitto. Così gli stessi egizi si dedicarono a saccheggiare senza rimorsi le antiche tombe dei loro antenati per soddisfare un fiorente mercato, quello delle antichità, che ogni volta era più in richiesta. Fortunatamente negli anni è stato possibile porre fine a saccheggi e distruzioni, anche se molte cose sono andate perdute per strada. Ma che fine ha fatto Belzoni? Ebbene, tornò a Londra nel 1819, dove avrebbe pubblicato il suo libro, e nel 1821 organizzò nella capitale britannica una grande mostra sulla tomba di Seti I. Ma la voglia di avventura era penetrata molto profondamente nell'esploratore italiano, che organizzò una spedizione a Timbuktu nel 1823, un'avventura che purtroppo non ha potuto portare a termine. Pochi giorni dopo lo sbarco in Nigeria, in un villaggio chiamato Guato, il granduomo morì di dissenteria. Questa volta, la sua invincibile apertura all'are di Ercole non sarebbe stata sufficiente per combattere contro il suo funesto destino.